La tassazione sulla casa non è una tassazione che riguarda i redditi, è una tassazione che riguarda gli immobili e noi pensiamo che l'abolizione della tassa sulla prima casa sia un fatto importante, che per noi è un fatto definitivo e terremo questa posizione perché è una posizione giusta, corretta in un Paese che ha bisogno anche di dare un nuovo slancio sull'edilizia.